Ricordiamoci che la cioccolata, pur essendo buona, deliziosa e che si dà anche ai bambini, invece è estremamente tossica per i nostri animali. E se i gatti... Cioè, gatti e cani... Tutti, tutti. I gatti sono un po' meno propensi a mangiare le cose dolci, per quanto qualche pezzettino di pandoro lo vanno alla chimera, ma non rubano la cioccolata abitualmente. I cani invece sì, i cani sono proprio tonti, la cioccolata è dolce e loro se la mangiano. Quello lanciato dalla dottoressa Fulvia Adarossi, veterinaria, non è un allarme per certi aspetti, neppure un avvertimento, già che i proprietari di animali di ciò sono a conoscenza. Chi non ne possiede può non sapere della pericolosità della cioccolata e magari a Pasqua, fra un uovo e l'altro, inavvertitamente darne un po' ad un cane più che ad un gatto. La cioccolata è contenuta una sostanza tossica, che è la teobromina, e a seconda del tipo di cioccolata e della quantità di cioccolata che è stata ingerita dell'animale, si può tranquillizzare il proprietario o si devono intraprendere delle manovre, alle volte anche estremamente... Tipo lavanda gastrica. Tipo lavanda gastrica. La cioccolata bianca è meno pericolosa, quella fondente più nociva. Ovviamente il discorso riguarda anche la quantità ingerita e la taglia dell'animale. Per un cane di 5 kg, per cui cagnolino veramente piccolo, i miei bassotti ne pesano 8, per dare un'idea, la dose letale, che vuol dire che volente o nolente il veterinario non può far nulla, di cioccolato al latte, per cui se andiamo a vedere il cioccolato fondente è ancora più basso, è 250 grammi.